Noi abbiamo detto più volte che la crisi pandemica è diventata, sta diventando crisi economica e sicuramente avremo più difficoltà a uscire dalla crisi economica che da quella pandemica. Oggi abbiamo convocato la parte mediatica, quindi le testate giornalistiche, per dire che il Confcommercio sta dalla parte delle imprese e degli esercenti e vorremmo fare in modo che oltre ai servizi che Confcommercio mette a disposizione dei suoi associati ci sia una interconnessione tra le varie Confcommercio provinciali e le amministrazioni comunali, soprattutto per quanto riguarda questo nuovo intervento governativo e istituzionale che è il PNRR. Noi ci auguriamo che le amministrazioni siano sensibili anche con l'aiuto, il supporto delle strutture di Confcommercio a saper interpretare i disagi del territorio, i disagi del sistema socio-economico e per questo noi saremo accanto ai comuni, accanto a tutti gli enti e le istituzioni che vorranno mettersi in gioco per le nuove progettualità previste.